Ravenna partecipa è un percorso partecipativo finanziato dal Comune di Ravenna, dalla legge regionale sulla partecipazione alla numero 15 del 2018, che ha avuto l'obiettivo di ascoltare e confrontarsi con tutta la cittadinanza per parlare e confrontarsi sui temi dell'immigrazione e dell'intercultura. L'obiettivo di questa rete, che speriamo tutti voi vogliate andare a costituire, è quello di tenere aperto il dibattito sull'immigrazione, il dibattito sull'intercultura, organizzando le iniziative pubbliche, partecipando alle iniziative che l'amministrazione comunale organizza e sollecitando l'amministrazione comunale rispetto ad alcuni temi, rispetto al dibattito di alcuni temi. Quindi un organismo assembleare che, lo diciamo già, avrà anche una dotazione finanziaria per organizzare delle iniziative, dei convegni, delle esperienze, degli elementi di socialità e di aggregazione e che possa essere di cungolo, di riflessione e di produzione di pensiero sociale, pubblico, comune, attorno ai temi dell'immigrazione e dell'intercultura. È un obiettivo grande, molto bello e io spero che, come dire, voi troviate l'entusiasmo nel percorso e decidiate di dare vita insieme a noi a questa rete e lo passate con l'entusiasmo che ci ha accompagnato nel corso di tutta questa esperienza. Grazie. 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 Ho parlato di quelle che saranno le finalità, gli obiettivi, ma anche le azioni che potranno intraprendere le persone che costituiranno questo nuovo organismo e quella che sarà la sua struttura, la sua governance. Tutto ciò è racchiuso dentro al documento di proposta partecipata che stiamo consegnando all'amministrazione plenale. È stata un'esperienza straordinaria, molto coinvolgente. È stato realizzato un percorso partecipativo che ha visto il contributo di tantissimi cittadini, moltissime associazioni e anche dei consigli territoriali della città. Un'esperienza che ci lascia in eredità idee, molti spunti di riflessione e molte proposte. Un patrimonio di azioni per una città sempre più inclusiva ed interculturale che sarà la base per la futura rete interculturale. Grazie a tutti!